Il video, fatevi 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 il video Aspettate che... Non lo facciamo? Aspetta, 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 fammi il video Mamma mia, nuova citte, di mortalità I'm immortal Fate qualcosa di comico Eeeeh... Eeeeh... Mi spagisci male Saluta mamma Tu muore, tu muore Tu muore, tu muore Ma che cazzo c'è questo muore? Ma dai, ma che cazzata è? Ma dai, ma che cazzata è? Ma dai, ma dai, ma dai C'è uno che non muore? Ma guarda, ma dai, è buggato qua Guardate ieri video C'è uno che ci faccia schinato Quei deficienti Adesso gli ho tirato un RPG con lo sconso di uno Snyder Quattro lì Tro lolo lolo Tro 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 C'è uno che voleva aggirarci Io ne sono accorto Ok, e che se ti prendo da dietro tu sei ancora verginello Ti rendi conto che sto registrando E poi si sentirà sta cazzo di cazzata Oh, grilla, grilla, grilla E poi ci scriverai sul video, non funziona neanche la guild da console Si sta registrando, Max, allora preparati a non bestemmere, se no, guarda Non ho detto niente Eh, troppo era tu uccido, eh, ma è una che non è un grado, no Eh, dio cane sta tu uccidendo Hai capito? Il sostituto l'hai trovato subito Un caro armato, guarda Un caro armato Chi è qua, fate il video col caro armato, sali qua dentro Ok, ok, adesso si arriva Sta sopra... Spotta con culo Allora da noi c'è, su terrorista no, non lo voglio Ma neanche io voglio accadere, quindi non provo Stavo dalla stessa idea, mi sa lì